Visto che la scorsa volta mi è obbligato a giocare a quello schifosissimo gioco sulle blatte Ok Questa volta finalmente giocheremo un bellissimo gioco in cui saremo dei bellissimi gattini Va bene E ragazzi come va? Io sono Fereniki Io sono Stefano e questo è oggi che mi ha accattato lateral damage Ovvero il gioco più bello del mondo ma cosa si vuole di più? Cosa si vuole di più? Allora Un gioco serio? No 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 questo è serissimo Spieghiamo brevemente Vestiremo i panni di questo bellissimo e pucciosissimo gattino Ok E dovremo distruggere tutto quello che abbiamo attorno Quindi io so già che chiunque ha un gatto in casa capisce benissimo di cosa si tratta questo gioco Credo proprio di sì Noi non possiamo tenere il nostro amato bonsai dove vogliamo perché altrimenti il gatto lo butta giù Il gatto va spam con le sue adorabili zampette e butta giù tutto E poi se lo vuole pure mangiare Esatto Quindi questa è una cosa un po' strana Proprio crudelissima Però se lo vuole anche mangiare Niente albero di Natale Niente bonsai Nessun tipo di piante in giro per la casa Perché è pazzo I tappeti Le scatole Totalmente pazzo Questo comporta avere un gatto E quindi oggi diciamo che ci godremo Diciamo Il loro divertimento Il loro divertimento Mi sembra giusto sfogarci nel loro stesso modo no Però guarda Oh che pelle nere Tu vuoi usare questo perché so che Io amo i gatti color miele Amo i gatti color miele Però che bianchi e neri sono carinissimi Ce l'avevo uno identico a quello della prima figura e anche a questo Bellissimo bellissimo Allora cosa dobbiamo fare? Vediamo un pochettino Allora dice praticamente La vignetta ha detto Quell'umano Ok Si è permesso di portarmi via il giocattolo preferito Quindi facciamo un po' di disastro nella stanza Mi sembra giusto vendicarsi Cioè non si può portare via il giocattolo preferito Come si è permesso no? Ad esempio Nami il mio cane Ha decapitato il suo giocattolo preferito Però ci è rimasta malissimo L'abbiamo messo su Instagram Sì l'ho messo su Instagram Proprio la foto della testa del corpo Un po' macabro però L'ha fatto lei Nessuno la voleva vedere secondo me Ma la volevano vedere tutti E tutti stavano ridendo Quindi stai zitto Vabbè Io metto quello che voglio Ok Non dovrebbe essere così E invece sì Ci dovrebbero essere le nostre facce su Instagram Allora praticamente questi cosi Se li spacchi Ti danno un upgrade Perché ovviamente il nostro gattino Ha anche delle statistiche Guarda Ah ok Ok sto capendo Adesso SWOT più potente E quindi noi diamo i colpi più potenti Con questo Vedi così Con le zampotte Esatto Comunque il nostro obiettivo È in 8 minuti Distruggere 370 cose Di cui bicchieri E l'altro non so cosa sia Piatti Piatti Mi suppongo siano piatti Quindi 18 bicchieri E allora andiamo in cucina Scusami Eh sì Mi sembra giusto andare in cucina Allora Guarda Via 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 Tutto giù Tutto giù Spacchiamo tutto Piatti Piatti Bicchieri Sì se li avevo scambiati per altro Mi dispiace Eh sì Ci sembravano delle palline da gatto Stiamo facendo degli achievement Che non so a che cosa servono Perché siamo fantastici Quindi è normale che ne facciamo Come miglior gattino dell'anno Miglior gattino del 2017 Immaginate se torni a casa e trovi questo Ah butto via il gatto Lo abbandoni È proprio la volta buona Che lo butti per strada Esatto Senza pensarci neanche due volte No non ci riuscirei Purtroppo Eh esatto Ti faresti sottomettere Perché stiamo distruggendo Perché ci dà poteri Vedi Dobbiamo distruggere Le nostre stesse cose Adesso andiamo più veloci Uh bello Qua cosa c'è Scusate Il bucato Niente bucato in casa nostra Non ne vogliamo Le superfici devono essere tutte libere Sai com'è Esatto Per dare spazio al gattino migliore dell'anno Esatto Esatto Tutti i prodotti del bagno Uh aspetta C'è anche la carta igienica Oh questo è uno dei passatempi preferiti C'è Guarda Sono terribili Non so perché hanno quest'odio Verso la carta igienica Il mio gatto La srotolava per tutto il bagno Così E poi la spettitava Ma non si deve fare Eh ok Ma loro si divertono Non gli frega nulla Ma tu gli compri i giocattoli Ai gatti Perché se la devono prendere Con la carta igienica Capito Guarda Ho aperto anche il lavandino Vai di tutto Stai buttando giù anche lo specchio Eh questo è un po' eccessivo Eh vabbè È andata Aspetta Ma è pieno di stanze Ah ecco Ecco È gigante questa casa Ok Adesso si ragiona Scusate Qua il gatto Non aveva trovato La porta più bella Della casa Eh mi sembra giusto Praticamente Lì sopra Vedi che ci sono le mensole Se arriviamo lì È la fine Sì Se arriviamo a quella È la fine Per ora Mi limito a buttare questi Però poi Cerchiamo di salire Tutto su Facendo un bellissimo parkour Anche le pentole Mi danno fastidio Vero Sono proprio terribili Aspetta Ok E lì sono i bicchieri Però hai visto Eh ma è difficile Queste sono le allucinazioni da gatto Scatenati Scatenati Ecco perché poi combinano le cose che combinano Esatto Mi sembra giusto Cioè se tu pensi di essere in discoteca È normale che Io quando ho parlato il gioco C'era un evento Che praticamente c'era il laser Con cui i gatti impazziscono E lo dovevo colpire un tot di volte Lo rivoglio E questa è l'erba gatte invece Eh sì è l'erba gatte giustamente Ok Come il bonsai se la vuole mangiare Quindi mi sembra giusto Esatto Ma qua c'erano delle piantine Le piante che odia Che volevano lasciarci Boh Scusate Se quando le spacchiamo le piantine Le cose non vanno bene Vai bicchieri giù Perfetto Guarda quanti i piatti I piatti abbiamo finito Mi è scivolata la zampa Non volevo Qua 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 Spacchiamo tutto qua Ok Vai 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 le mensole Via Tutti i libri che schifo I film che schifo Esatto A un gatto sono inutili E di conseguenza Non potete averli neanche voi Sporchi umani Di conseguenza voi non avete nulla Esatto Anche i giocattoli Tutto via Tutto via Oh poi qua Sì benissimo Guarda potete avere Soldato pappi Per un gattino Molto amato E molto carino Ma se poi distrugge anche Le sue stesse cose Cioè ha distrutto la lettiera Finito Oh yes Livello completato Ok Ah guarda la cosa più bella Questa mi stavo dimenticando Di dirtela Ok Quando finisci un livello Io ci gioco per il resto Della mia vita Non sapevo che avresti reagito così Mi sembra giusto Dopo che ti stanchi Tutta quella giornata A farti anche il riposino E farti trovare in una scatola Dormendo Con la faccina angelica Per poi non farti punire Certo È furbo questo gatto È molto molto furbo Stiamo provando un'altra modalità Siamo in una modalità Guardate dove siamo La prima cosa che distruggiamo È quello Tutalo giù In qualche modo Sai che sono abbastanza Lento e salto Cioè Vedi è salto poco Forse perché siamo Un gattino nuovo Abbiamo appena sbloccato quello Quindi forse Non ha statistiche Può essere Poi questa qua è la modalità Litter box Che non sappiamo Cosa cambia rispetto all'altra La volevamo provare Per curiosità E quindi stiamo a vedere Comunque piccolo spoiler Vedrete di nuovo un museo Nel canale In questi giorni Con un altro gioco Però non vi diciamo Quello il gioco Oh mio dio Non possiamo buttare giù davvero Aspetta Continuiamo Vedete I Rex non avrebbero avuto Scampo con i gatti Comunque Ecco perché si sono istinti Perché sono stati attaccati Da dei gatti Esatto Sembra giusto Questa è la dimostrazione Che i gatti avrebbero distrutto Che non è stato un meteorite Ma sono stati i gatti Sì Oh mio dio Guarda qua Oh mio dio Il sogno di una vita Buttare giù tutti i modellini Distruggere La città finta Siamo il mostro letale Dopo aver distrutto il T-Rex E' lui il T-Rex Adesso Esatto E' lui il T-Rex Ha preso i suoi poteri E certo Mi sembra giusto Che abbia tutti questi poteri Dopo tutto quello che distrugge No è troppo bello Buttare giù qua Da una soddisfazione Che non è descrivibile Ne è pure un'altra Comunque è bellino sto museo È molto bellino Però il museo che faremo È più bello E non vi diciamo il gioco Dovete provare a indovinarlo Ma secondo me è impossibile No non lo indovineranno mai Perché è un gioco Che non è nuovo E che non abbiamo mai portato Nel canale Quindi è davvero difficilissimo Indovinare E faremo una cosa Che facciamo sempre nel museo Cioè Non si dice che cosa Una cosa che facciamo sempre Nel museo La facciamo in altri giochi Ma la facciamo nel museo Capito Va bene Quindi è un tema particolare Questo è già più facile da capire Però Secondo me non si è capito nulla È impossibile capire il gioco Non si è capito nulla E infatti siamo birichini Esatto Mettiamo curiosità Però poi non diciamo nulla Siamo capiti Tanto lo vedo in questi giorni Sì 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 La testa non sarà lunga Questa settimana esce Quindi potete stare tranquilli Butto giù tutto Adesso è bellissimo Se per un motivo o per un altro C'è prima Quel video di questo E mi tocca tagliare tutto E noi staremo felicissimi Parlando di questo Invece sembriamo stupidi Sapete che è capitato Molte in cui facevamo riferimento A una cosa Poi per dei motivi O per altri Invertivamo la pubblicazione E dovevamo tagliare quel pezzo Perché altrimenti Sembravamo psicopatici Allora stiamo gitti Perché se no dobbiamo tagliare tutto Va bene Nell'eventualità Guarda questo uovo è rarissimo Questo è bello What the Al volo Oh ma che bel salto Infatti è nuovo Lo spazio non esiste I gatti sono il re del mondo E quindi non può esistere altro A parte il mondo Non possono esistere altri pianeti Esatto Perché altrimenti saremo sempre noi il re E non possiamo essere il re di qualcosa Che non sappiamo di cui lo siamo Hai capito? Non aveva senso Non ti ho capito Questa è filosofia felina Allora se il gatto è il re di tutto Ok Ed essendo il re Ovviamente conosce il suo regno Non può essere il re di una cosa Che non conosce Quindi vuol dire che direttamente quella cosa non esiste Ma se lui fosse un bel re Conoscerebbe anche l'esistenza di tutti i pianeti No Dell'universo Ancora prima della NASA Perché il gatto non sbaglia mai Di conseguenza vuol dire che quei pianeti sono ologrammi E non esistono Ok Capito? Si sbagliavano tutti I gatti lo sanno E poi la cosa più bella è che tanto sono il re del mondo Ma almeno escono dalla propria casa Si fanno pure i bisogni addosso dalla paura Però sono il re del mondo Prova a portare un gatto dal veterinario Poi ne riparliamo di come ti ritrovi il trasportino Ne riparliamo Perché ti fanno davvero dannare Però sono il re del mondo Nella loro testa lo sono Almeno nella loro testa lo sono Poverini Allora siamo a metà della barra Io non pensavo che il lavoro di un gatto fosse così faticoso Non mi lamenterò più quando ci distrugge la casa Anzi le li mettiamo Tieni fallo Perché è un lavoro duro Perché così No va rispettato Guarda che è faticosissimo Comunque ci fermiamo così per questo video Speriamo che vi sia piaciuto Il sondaggio di questo video sarà Se vi è piaciuto il più Il gioco di ferinichi dei gattini O il gioco di Steph delle blatte Non mi è piaciuto a nessuno E bizarritevi È piaciuto a tutti No no ha fatto schifo Era bellissimo No non è piaciuto Cioè ricordatevi i momenti in cui volevo con le ali Era epico Ammettete E ricordatevi i momenti in cui siamo Un gattino tererissimo Che dorme dentro una scatola Vinco io proprio a mani basse Il prossimo sarà sugli squali Non ci provare Io te lo prometto Io il prossimo te lo cerco sui serpenti No Così impari No Mi sono però ricordata che li odi da Stranded Deep Quindi non mi farà arrabbiare Secondo me non esiste un gioco con i serpenti Bottate i gattini Guardate come siamo carini i gattini Vincono sempre su tutto Mi raccomando Bottate le blatte E non ne vedrete più in casa vostra Non è vero Vi arriva l'invasione Ma quando vai Comunque noi ci veniamo così Speriamo che vi sia piaciuto anche questo gioco Davvero simpatico Ed originale E ho apprezzato l'idea Di mettere i gattini Distruttivi Eccetera eccetera Mi sembra giusto Ovviamente un singolo video Quindi non ci chiedete di portarne altri Perché questi giochi Sono divertenti a portare Una sola volta E ci fermiamo così Spero che ci giusti così Sentici un like E se la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdere gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao